Due buone notizie sul fronte delle multinazionali. La prima dice che la Bayer, che si è unificata con la Monsanto, invece di diventare più forte, comincia a perdere dei colpi. Perché? Perché la Monsanto deve far fronte, pensate voi, a 11.000 cause determinate contro l'uso del glifosato. 11.000 cause che una moltitudine di persone nel mondo hanno intentato nei confronti di questa multinazionale. Questo vuol dire che la moltitudine delle persone è più forte del potere della finanza. La seconda notizia, che invece è positiva per quello che riguarda una multinazionale, è che la Nestlé ha dichiarato che nel rispetto dell'ambiente intende cambiare il proprio packaging, levando la plastica e utilizzando cartone che può essere riciclabile. Ecco, questa è una notizia bella.